Ah, non ci credo! È già il momento di fare le pulizie! Ehm, Luna! Vedi quello che vedo io? No, lì sotto non guardo! Ok, vabbè, ci penso io! Ok, posso farcela! Ehi, c'è qualcuno? Oh, non ho mai visto niente di simile! C'è scritto Red Manji! Credo sia una specie di gioco! Vuoi giocare? Ma che diamine! Non promette bene! Wow, è tutto rosso qui! Aspetta! Ambarabà, cicicocò! Inizio io! Toccherà presto anche a te! Cos'è? Rifiuti tossici, scorie nucleari! Wow! Voglio assaggiarlo! Sembra delizioso, vero? Mh, un po' aspro! Aspetta! Ah, troppo aspro! Ah, troppo divertente guardarti! Pulizia, rifiuti tossici! È davvero necessario? Ci penso io, signorina! Che farà? Affetti, si fermi! Le braccia mi servono! Perché? No! Per favore, aiuto! Dovrei chiamare qualcuno! È successo tutto così in fretta! Emma! Sei tornata? Sono scappata per un pelo! Pensavo non fossi tossica! Forza! Apri il tuo! Sembra un occhio! Vediamo! Uh! La mia lucertola ha gli occhi così! È una caramella! Ottimo! Ho già finito! Strano! Oh no! Emma! Cosa? Ti stai strozzando! Mi sento meglio ora! Molto! Meglio! Quindi, ora! Wow! Sei un bel serpente, amica mia! È il momento di divertirsi! Ti va un po' di musica? Sì! Puoi ballare! Oh sì! Funziona davvero! Credo sia in trance! Wow! Chissà che c'è dentro! Ehi! È mio! Wow! Non è vera questa lingua, giusto? Oh! Ha sempre le cose più divertenti! Vediamo io! Wow! Gel di caramelle! Sembra buono, vero? Ma sarà buono come sembra! Emma? Forza! Entra in bocca! Cosa? Sembri pazza! Beh, continuiamo! Qui c'è una sfida da fare! Questa è una cannuccia? Luna? Ti stai divertendo? Ridi quanto vuoi! Credo di dover cambiare modo! Questo si toglie! È un piccolo lecca-lecca! Fragola! Aspetta! Gelatina rossa! Mi sa che devo immergercelo! Di sicuro è buonissima! Vediamo! Super aspro! Oh! Ne voglio anch'io! Mi viene l'acquolina in bocca! Emma? È mio, ok? Ah! Che egoista! Cattiva! Mi senti, Luna? Eh? Sei un po' avara, non trovi? Dammi la gelatina! Sì, meglio che scappi! Che credulona! Vieni qui da me! Gnam! Sei pronta? Oh! Sembrano deliziose! Perché abbiamo la stessa cosa? Che strano! Beh, meglio mangiarle, no? Mi chiedo se siano aspre! Aspre e dolci insieme! Vogliamo scambiarcele! Dopotutto condividere è importante! Hanno lo stesso sapore! Ma che diamine! Delle fionde? Sarà divertente! Vuoi fare a gara? Vediamo come funziona! Ci siamo! Non dire altro! Prova a starmi dietro! Pronti? Mirare? Sicura di volerlo fare? E? Fuoco! Ah! Ehi! Non ci posso credere! Ah! Ora sono arrabbiata! Devo aguzzare la vista ora! Molto meglio! Non sorriderà a lungo! Ah! Colpo perfetto! Ti ho presa, Emma! Emma? Posso andare prima io? Grazie! Ta-da! Vito! Mi sanguinano le orecchie! Ok, fanno davvero schifo! Sono troppo gommuse per essere vere! Significa che sono caramelle! Bene! Spaventiamo Emma! No, non posso guardare! Ehi! Ma quanto sono buone! Posso fare di meglio! Non guardo! Hai finito! Volevo solo farti vedere una cosa! Ok, molto divertente! Quindi sono buone, eh? Meglio di quanto pensassi! Te l'ho detto! Vuoi aprire il tuo ora? Sì! Buona idea! Che roba strana! Un bicchiere degli occhiali! Un po' particolari! Vediamo! Oh! Mi stanno bene! E ora? Mi faccio un sorso! Ah! C'è anche questa estremità! Wow! Ecco che sale! Hai visto? Quasi! Valeva la pena aspettare! Cosa? Non la voglio più! Che stavo bevendo? Oh! Non voglio saperlo! Bleau! Perché è così viscido? Non odora di niente! Spero tu stia scherzando! Non è un vero occhio! Altrimenti come potrei fare questo? Non mi interessa! È disgustoso! Alziamo queste cloche! Prima io posso! Sembra succoso! Non trovi? Bingo! Spero sia buono come sembra! Sembra una vera anguria ma gommosa e divertente! Guarda qua! Mordila! È divertente vederla tremolare! Sembra proprio un'anguria! Con zucchero in più! Con zucchero in più! Tocca a me! Wow! Sembra piccante! Devo provarne uno, sì! Emma? Wow! Siamo davvero quello che mangiamo! E ora testa il tremolio! Wow! Che ridere! Troppo divertente! Wow! Questa è follia! E non nel senso buono! Devo mangiarlo, vero? Ehi! Fa un po' caldo qui, no? Sembra ci siano mille gradi! Qualcuno accende il condizionatore! Mi va tutto a fuoco! Oh! L'ho fatto davvero! Ci sono! Aspetta! Faccio io! Per poco non erano guai! Ti piace mangiare cibi rossi? Quali cibi colorati eviti? Faccelo sapere e non dimenticare di condividere questo video con i tuoi amici! Questi li hai visti? Iscriviti al nostro canale per non perderti nulla! Faccio io!